Ciao a tutti, sono Laura Antichi, oggi vi presenterò ASR Registratore, è un'applicazione per Android molto efficace e serve per registrare la voce e tante altre cose. Quindi andiamo a scaricare l'applicazione sul nostro smartphone, scriviamo nella casella di ricerca ASR Registratore e scegliamo la voce Registratore vocale ASR App su Google Play. Quindi installatelo, questo, e poi adesso noi andiamo a vedere come funziona sullo smartphone. Per fare questo farò il mirroring del mio cellulare sul computer. Sto utilizzando un'applicazione che mi consente di fare il mirroring e si chiama Let's View. Vedete qui l'icona di cui parleremo in seguito. Ho fatto quindi il mirroring, come vedete questa è l'interfaccia del mio smartphone. Vado in Registratore vocale e vedete che ho la possibilità sia di fare una registrazione standard, di fare una intervista e di trasformare la voce in testo e quindi con quello che è il processo del test-to-speech. Ritorno in standard e vado a fare la mia prima registrazione. La rana scoppiata è il bue Un giorno la rana vide un bue al pascolo e presa da invidia per tanta grandezza gonfiò la pelle rugosa Poi chiese ai suoi figli se fosse più grossa del bue Risposero di no Tese di nuovo la pelle con sforzo maggiore e chiese ancora che fosse più grande Risposero il bue Alla fine, esasperata, mentre cercava di gonfiarsi ancora di più il suo corpo scoppiò e così morì Questa è una favola di Fedro e ci dice che le manie di grandezza sono distruttive Ora chiudo Potevo chiudere anche prima Ho chiuso la registrazione Come potete vedere e vado, ritorno e clicco su preferito Preferito Vado in standard In alto Mi chiede di salvare la registrazione o scartarla Io la salvo Salva Ok Vedete che la registrazione Voce 001 Mi è stata registrata Ma dovrò andare La rana scoppiata e il bue Un giorno la rana vide un bue al pascolo Ecco, quindi la registrazione è in questo caso avvenuta Ora Clicco sulla registrazione Come vedete questa Compare la spunta Vado in rinomina E sostituisco il titolo voce 001 Con la rana Con la rana Il titolo La rana Fatto Quindi Ora Ho la registrazione che ho appena fatto Della rana Questa è la registrazione La rana scoppiata e il bue E come vedete Sono ritornata indietro Vado in onda E in elenco posso andare Il preferito Senz'altro Se vado in preferito Cettate che In preferito Posso Nell'elenco dei preferiti Aggiungere una nota Aggiungi nota Quindi è possibile Annotare A qualcosa Dei file che abbiamo creato Sui file che abbiamo creato Aggiungi nota Questa 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 È È Una Fabola Di Fedro Aggiungi 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 Quindi ho Aggiunto la nota Alla La mia Registrazione Ritorno nell'elenco Ora Delle mie registrazioni Nell'elenco delle mie registrazioni ho tenuto premuta la rana per selezionarla Ho la possibilità Ho la possibilità Di Come vedete Di eliminare Condividerla Spostarla Rinominarla E altro Ecco Quindi Proviamo con quello che ci interessa Condividi Vedete che mi dà la possibilità Di condividerlo Con Tutte le applicazioni Un sacco di applicazioni E i social Questa era la cosa interessante Ora possiamo Trasformare la registrazione Scoppiata In testo Quindi apriamo La registrazione Semplice Standard Fatta Andiamo nei tre puntini E Clicchiamo su converti voce in testo Clicco su a converti La rana scoppiata E il bue Un giorno La rana Vide un bue Al pascolo E presa Da invidia Per tanta grandezza Gonfiò la pelle rugosa Poi chiese ai suoi figli Se fosse più grossa del bue Risposero di no Tese di nuovo la pelle Con sforzo maggiore E chiese ancora Che fosse più grande Risposero il bue Alla fine Esasperata Mentre cercava Di gonfiarsi Ancora di più Il suo corpo Scoppiò E così Morì Come vedete Questa è un'opzione Molto interessante Per Proprio L'inclusione Posso Ora salvare La registrazione Come testo Clicco Su questo quadratino Oscuro E mi da La rana Memo Posso aggiungere Anche dell'altro Vedete La rana Memo E vado A salvare Salva Da voce A testo Salva Come vedete Nella Registrazione Della rana È presente L'icona Della registrazione L'icona Della 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 nota E E anche La trasformazione Della 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 registrazione In testo Da Quindi Dal Testo Text To Speech Quindi È un'ottima Forma Questa Di registrazione Ritorniamo all'inizio Come vi dicevo Possiamo Anche Fare Un'intervista Cliccando Su intervista E Appuntando Il Registratore Dalla Parte del Microfono Verso la persona Che andiamo a intervistare Possiamo Poi Fare Direttamente Creare Direttamente Un File Di testo Da voce a testo Con questa Applicazione Qui andremo La lingua è stata scelta A inserire il nostro testo Che ci verrà Poi trasformato In In audio Con il Registra Sempre Agendo sul Tasto del Registra Queste sono le Informazioni Essenziali Che ci permettono Poi con l'uso Di prendere La mano Con questa Bellissima Applicazione Di Registrazione Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti